serie b ottava giornata di ritorno su sky serie b ottava giornata di ritorno su sky tutte le partite del campionato cadetto e gli orari per seguirle sui canali sportivi della piattaforma satellitare dopo l'ultimo turno la serie b torna su sky tra il 3 e il 5 marzo sono in programma gli incontri dell'otto accento circonflesso giornata di ritorno che si apre sabato con sette partite per proseguire domenica con due match per chiudersi lunedì con il posticipo delle 20.30 foggia empoli pre e post partita dallo stadio zaccheria alle 20 e alle 22.30 con vanessa leonardi e claudio onofri sabato studio pre e post partita alle 14 e alle 17 con diletta le otta gialluca di marzio e daniele barone sky trasmette in esclusiva tutte le partite del torneo compresi playoff e play out con tutti i match inclusi nel pacchetto calcio oltre a diretta gol questa la programmazione in diretta dell'otto accento circonflesso giornata di ritorno della serie b su sky sabato 3 marzo ore 15 diretta gol sky sport 1 hd e sky super calcio hd parma palestra calcio 5 4 4 5 5 6 7 8 9 8 9 10